Buongiorno a tutti, ci ritroviamo qui per fare un approfondimento insieme sulle assenze per malattia causata da responsabilità di terzi. Questi incontri si inquadrano in un profilo di una serie di interventi volti ad effettuare alcune precisazioni e alcuni approfondimenti su vari temi che riguardano il servizio trattamento economico ma che soprattutto riguardano tutto il personale. Perché partiamo da questo aspetto, vale a dire le assenze per malattie causate da responsabilità di terzi? In effetti in Ispra in questi ultimi tempi stiamo rilevando un aumento anche forte degli incidenti stradali per i quali sono coinvolti i dipendenti, quindi il cosiddetto infortuni in itinere. Andando sulla specificità di questo argomento, diciamo che in linea generale la malattia causata da terzi può interessare il personale Ispra e ci si crede qual è al contempo il quadro di riferimento. Da quello che appena abbiamo detto in effetti la risposta è già nell'area, ma andiamo sulla specificità. Infermità derivanti da infortunio non lavorativo addebitabile a terzi è questa la malattia causata, quindi può riguardare un incidente stradale, un'aggressione, usciamo dall'ufficio e veniamo aggrediti, caduta di cornicioni o intonaci di edifici, un trasporto, altre cause ma potrebbe essere benissimo che usciamo e ci cade un vaso in testa. E allora che cosa succede in questo caso? E qui la slide che ci ricorda che negli ultimi anni si è registrato ad esempio un costante incremento degli incidenti stradali che è coinvolto i dipendenti nel tragitto casa lavoro. Infortuni in itinere che è un istituto sostanzialmente innovativo dell'ultimo decennio per quanto riguarda l'ambito assicurativo INAIL. In effetti prima non esisteva questa tipologia infortunistica ed è stata introdotta col decreto legislativo 38 del 2000. In particolare quando sentiamo dire infortuni in itinere è giusto un piccolo cenno e riguardiamo l'infortunio corso durante il percorso casa lavoro e viceversa. Quindi tenendo conto di alcuni aspetti altrimenti INAIL non ci risarcisce e cioè quando il mezzo usato sia l'unico a disposizione del lavoratore ci sono avverse condizioni atmosferiche quindi che necessitano particolarmente questo tipo di mezzo. L'orario imposto dall'organizzazione del lavoro che il lavoratore deve rispettare sia tale da costringerlo ad affrontare un rischio della strada più grave e magari trovasi ubicato lente ad esempio in una posizione particolare non fornita da mezzi pubblici. Può essere anche un ambito particolare per cui è particolarmente buio il percorso di strade e per cui uno a livello anche di sicurezza, sicurezza personale, preferisce utilizzare il mezzo o quando il percorso sia quello diretto e non da deviazioni necessitate. Cioè che cosa significa che ad esempio se io durante il percorso casa lavoro mi fermo lungo la strada e vado a fare la spesa al supermercato in effetti su questo l'INAIL ci fa immediatamente il rilievo e può procedersi in tal senso a non svolgere poi il rimborso relativo all'infortunio. Oppure per esempio ci sono particolari utensili da trasportare ma anche la strumentazione. Quindi i colleghi che sono qui presenti di Bibweb all'orquanto devono andare a effettuare delle riprese in un determinato luogo chiaramente non possono andarci a piedi o col motorino necessariamente dovranno portare con sé tutta una serie di strumentazione e necessiterà evidentemente un mezzo di trasporto. E che cosa succede se la colpa dell'evento traumatico non è ascrivibile al dipendente ma a terzi? Cioè l'evento che si è venuto a determinare è correlato ad una colpa o un dolo da parte di un terzo per cui in questo nostro percorso quello che sia veniamo coinvolti in questo evento. Allora la prima domanda e quindi ripartiamo al concetto iniziale. È risarcibile la malattia causata da altri? La risposta è sì. E chi ce lo dice in effetti? Ce lo dice sia il CCNL ricerca. Ecco infatti leggendo bene il nostro contratto collettivo poi si scoprono tante cose che in prima battuta sembrano non diciamo così comuni o prese diciamo così in considerazione con una certa comune rilevanza. E invece questa specificità è chiaramente indicata all'articolo 17 quadriennio normativo 98 2001 biennio economico 98 99. È prevista anche dal codice civile. Codice civile quindi l'articolo 2043 e per la giurisprudenza la cassazione sezione lavoro 15 settembre 2003 numero 13 549 è una delle sentenze poi che viene successivamente ad altre sentenze già della cassazione che sostanzialmente precisa non solo la risarcibilità da parte di terzi per il danno causato ad un dipendente ma anche al caso in cui vi è un risarcimento parziale o quasi totale da parte dell'INEL. Su questo concetto il rimborso quasi totale dell'INEL ritorneremo fra un attimo. Incominciamo a dare quindi questi effetti cioè da dove proviene questa particolarità e quindi assenze per malattia causate da questi profili. Il CCNL ricerca 98 2001 abbiamo detto all'articolo 17 per la precisione al comma 14 specifica che l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia scrivibile a responsabilità di terzi il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'ente al fine di consentirgli un'eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso ente corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma compresi gli oneri riflessi. E qui abbiamo tre cose che diciamo subito e poi andremo a precisare. La prima il CCNL ricerca in particolare quello del 98 2001 addirittura prevedeva una pubblicazione su gazzetta ufficiale ricordiamo sempre che allora quando c'è una pubblicità legale non si può ammettere il profilo di ignoranza. E questa per esempio è una delle norme che obiettivamente andando a fare un'analisi con i vari dipendenti scopriremo che non tutti ne sono a conoscenza o comunque si sono dimenticati di questo aspetto. E quindi la frase è sottolineata il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'ente. Che cosa significa se il dipendente non ne dà comunicazione? Ahimè può essere sottoposto a procedimento disciplinare. Perché? Perché in effetti c'è un mancato tra virgolette guadagno da parte dell'amministrazione correlata alla retribuzione che invece viene data al dipendente nel periodo infortunistico. In sostanza allora quando un dipendente subisce un infortunio o una malattia, la differenza poi è se sia stata riconosciuta o meno tale è correlata all'attività da causa da lavoro, in effetti il datore di lavoro la pubblica amministrazione deve comunque corrispondere all'intera retribuzione. Compresi gli oneri riflessi o nei riflessi che ricordiamo trattasi dei contributi previdenziali e di tutti gli effetti economici e conseguenziali. Quindi la maturazione TFR, tutto quello che sia. Ebbene il dipendente se si fa male chiaramente non può prestare la propria attività. E quindi? E quindi significa che allorquando sia riconosciuto da parte dell'INEL c'è un rimborso ma non è totale, è parziale e quindi mancherebbe una determinata quota. Ma andiamo poi più specificamente in avanti per ritornare su questo argomento. In effetti quando noi dicevamo la retribuzione che gli diamo al dipendente nel periodo di malattia, in effetti non è sempre così. O meglio, l'importo che viene corrisposto non è sempre quello complessivamente presente nella nostra busta paga mensile. Ma il nostro sempre CCNL, sempre l'articolo 17, ma questa volta il comma 8, ci dice un po' come avviene questa distribuzione. Dice l'intera retribuzione fissa mensile, quindi io mi faccio male, ma comunque viene sempre corrisposta nel periodo. Ma per quando? Per sempre? No, esclusivamente per un determinato periodo. E sono, qual è questo periodo? Sono, come dice qua, per i primi nove mesi di assenza. Questo quando parliamo di malattia, attenzione voglio precisarle, non di infortunio. Perché quando si tratta di infortunio, quindi è stato riconosciuto quell'evento dall'INAIL, invece abbiamo questa intera retribuzione per tutto il periodo soggetto ad infortunio. Ma significa quindi che l'INAIL volta per volta i propri ambulatori dovranno accertare che continui a sussistere quello stato di patologia, perché altrimenti, come è capitato, viene riconosciuto per un periodo e il pezzo restante, tra virgolette, del periodo non coperto potrebbe diventare malattia. Perché non necessariamente l'INAIL lo riconosce, cioè caso pratico, tanto per andare nelle fatti specie concrete che si sono verificate, viene immaginato che ci possa essere, si immagina quindi che questo percorso possa essere di patologia coperto da X mesi, in effetti ci sono delle ricadute che INAIL magari non riconosce e quindi scatterà un percorso di malattia. Quando è malattia le regole sono queste che sto citando. E quindi ritornando invece al caso di malattie, il 90% della retribuzione per i successivi tre mesi, quindi trascorsi 9, quindi per i primi 9 c'è la copertura, per i successivi 3 scendo al 90% della retribuzione, quindi perdo il segmento del 10 e se io per gli ulteriori tre mesi non riesco a rientrare in servizio e continuo la malattia scatta il 50% della retribuzione, quindi perdo la metà della retribuzione e successivamente a questo, qui non l'ho citato ma colgo l'occasione di dirvelo, scatta un ulteriore anno senza retribuzione, dopodiché ahimè viene risolto il rapporto di lavoro. Questo abbiamo detto, questa fattispecie ABC quando trattasi di malattia, non di infortunio perché quando è infortunio, ripeto, è l'intero periodo completamente intendizzabile e ci siamo detti prima che l'infortunio è un riconoscimento diretto, quindi un stato patologico sanitario riconosciuto dall'INAIL, quando non c'è questo riconoscimento invece decade la posizione a quella di malattia. E quindi abbiamo detto prima c'è un obbligo da parte del dipendente a darne notizia, ma in questo in effetti il dipendente sostanzialmente lo fa, vale a dire quando io sto male, in effetti vado a comunicarlo. Ci ricordiamo tutti che dobbiamo immediatamente entro le ore 9 del giorno successivo a darne comunicazione almeno alla segreteria telefonica 0650072115 o comunque quello che sia direttamente via mail o comunque facendolo, diciamo, facendo partecipe all'amministrazione di questo evento. Ma molte volte non è specificato il motivo per cui avviene questo stato patologico. Allora ci sono questi casi particolari, vale a dire c'è un infortunio barra una malattia che me l'ha causata un terzo, va citato questo aspetto e dopo si procede così ai successivi approfondimenti. Quindi la mancata comunicazione determina l'avvio del procedimento disciplinare per comportamento non conforme alle disposizioni contrattuali. Purtroppo questa è una cosa chiara, ricordavamo prima l'articolo 17 diceva il dipendente è tenuto. La comunicazione appunto è assolta con la descrizione dell'infortunio che si apprecia stato desumibile responsabile dell'evento. Cioè ora non è che deve andare lì a preoccuparsi, sta male, ha avuto un infortunio e deve andare a fare il precisino. Cioè quantomeno che venga ad emergere nello stato infortunistico, nello stato di malattia, attenzione questo è stato determinato da terzi. Vengono effettuati successivamente gli ulteriori approfondimenti. Ma avevamo detto che non solo l'articolo 17 del CCNL ci dava questa precisazione ma anche il codice civile e quindi la norma generale. L'articolo 2043, codice civile, questo può essere utile a prescindere dal datore di lavoro ma per qualsiasi attività che noi andiamo a intraprendere anche nella vita privata. Qualunque fatto doloso, colposo, che cagioni ad altri, un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Chi ce lo dice? Il codice civile, scritto chiaro chiaro. E allora il datore di lavoro qual è il danno ingiusto? Il danno ingiusto è la mancata prestazione quando di contro è versa dei soldi, accredita dei soldi per la prestazione che non è stata effettuata al dipendente, proprio perché abbiamo detto c'è quella norma, quella clausa di sicurezza sociale che viene garantita al dipendente. E allora in due parole, giusto per riassumere, scatta l'azione di surroga. Surroga, quindi sostituzione, è quindi un rimborso che viene determinato dal danno ingiusto e da cui deriva la legittima azione risarcitoria. E quindi con questa, diciamo così, rappresentazione sostanzialmente si riassume il punto finale. E quindi l'azione di surroga, riprendendo gli aspetti precedenti, quindi quando scatta tutto il meccanismo di rimborso, da che cosa sostanzialmente viene caratterizzato? Riassumendo, dall'esistenza della responsabilità civile del terzo previ individuazione e dall'avvenuta corrisponzione al dipendente della retribuzione. E quindi se mancano uno di questi due elementi, cioè non c'è un terzo che ha causato il danno, mi sono precipitato da solo lunghe scale. Oppure non c'è stata una corrisponzione al dipendente della retribuzione? Beh, effettivamente, rispettivamente citando, nel primo caso non era un evento causato da terzi e nel secondo caso, se io non procedo a un pagamento, a un'erogazione retributiva, chiaramente non sussiste il danno economico. Quindi questa azione di surroga si definisce un credito certo e esigibile, dicono i giuristi. Termo restando la responsabilità del terzo e si è quantificato l'ammontare del danno. Sono le parole che abbiamo detto prima, ma soltanto, diciamo, ricomposte. Perché si è approvata la responsabilità del terzo? Perché non è detto che io sono uscito e dico che mi è caduto il vaso in testa appena sono uscito dall'ispra e quindi la colpa era di terzi perché c'era quel vaso che stava lì esposto. Dobbiamo provarlo, perché può darsi pure che me lo sono tirato in testa da solo, sto vaso. e deve essere quantificato l'ammontare del danno. L'ammontare del danno significa che andiamo ad individuare precisamente quante retribuzioni o datore di lavoro vado a corrispondere, per cui vado a qualificare specificando qual è il danno che emerge. Perché stiamo parlando quindi di rimborso, non il danno fisico. Stiamo parlando di cosa io come amministrazione devo andare a erogare proprio per questo momento, diciamo, di assenza del dipendente. Speriamo momento, può essere anche un periodo molto più lungo, chiaramente. E l'ultimo aspetto che avevamo citato prima, sempre a rafforzare questa legittimazione dell'amministrazione a chiedere il rimborso anche la giurisprudenza. La giurisprudenza che con questa sentenza in particolare della sezione lavoro della Cassazione, nel 2003 racchiudeva un po' con le precedenti sentenze e diceva quindi il diritto del lavoro, andava a risaltare il diritto del datore di lavoro quale terzo danneggiato al risarcimento del danno da azionarsi in via diretta anche nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante. Qui specificamente parlavamo di un incidente stradale. E forse questo è il caso che ci consente un po' meglio poi di specificare ecco anche raffigurativamente quello che può avvenire. E riprendendo quindi il caso, il lavoratore in malattia ed infortunio per tutta la durata dell'assenza dal lavoro abbiamo detto che aveva diritto all'intera, alla propria retribuzione tranne quei periodi che avevamo detto delle quote. E ritornando al concetto di prima, quando io dicevo non necessariamente completamente, una quota della retribuzione viene garantita dall'INAIL mentre una parte è a carico del datore di lavoro stesso in base al CCNL. E questo aspetto è giusto per citare quando dicevamo la quantificazione del danno. La quantificazione del danno intesa nel fatto che l'INAIL sia per i datori di lavoro pubblici sia per i datori di lavoro privati non procede all'intera corresponsione di un'indenità che equivale completamente alla retribuzione che viene erogata. Ma c'è un primo periodo che deve procedere direttamente il datore di lavoro e ci sono determinate voci ben specifiche che INAIL rimborsa. E quindi significa che allora quando anche l'infortunio è riconosciuto dall'INAIL cioè c'è una risarcibilità da parte dell'INAIL verso l'amministrazione, quindi questo momento di ristoro del danno, in effetti c'è una quota che non viene coperta. E questa quota quindi l'amministrazione dovrà attivare delle procedure andando a identificare gli autori, diciamo così, dell'azione colposa o dolosa che ha determinato poi l'Evendo per andare a recuperare la quota restante. E se venisse fuori la domanda ma perché gli amministrazione sono così zelanti a fare queste azioni ricordiamoci sempre che il datore di lavoro pubblico procede alla corresponsione di retribuzioni dietro prestazione lavorativa chiaramente ma con soldi appunto pubblici e quindi qualsiasi erogazione di denaro deve essere motivata di fronte alla collettività. Quindi la mancata azione di recupero di fatto costituisce un danno erariale. Può essere piccolo, può essere grande ma viene attivata questa azione. Nei confronti dell'amministrazione chiaramente viene un ispettore e dice sì però tu non hai recuperato tutti i soldi. Queste azioni hanno un loro periodo. Come sappiamo un po' da tutte le cose che succedono nella nostra vita, l'azione legale ha un periodo nel quale può essere attivata oltre la quale decade. E avviene questa prescrizione in genere su cinque anni e chi ce lo dice? L'articolo 2043 del codice civile. Quindi cara Ispra devi fare in maniera che non è, un po' di tempo ce l'hai, ma per quali eventi? Qua dici in genere. Quindi il famoso vaso che è caduto in testa ad una persona o io sto camminando per strada e inciambo sul marciapiede quindi attiverò verso il comune poi un'azione risarcitoria, ovvero mentre sto attraversando la strada cade un ramo, una pigna, un albero e mi fa male. Su questo c'ho cinque anni. Per la circolazione dei veicoli di ogni specie, io sono uscito da Ispra e mi sto avviando verso casa, vengo tamponato. È l'azione diciamo che è avvenuta più spesso nella infortunistica Ispra nel 2015. Bene, io come amministrazione ho due anni di tempo per il risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice di colui che ha prodotto il danno. C'è un anno anche per i veicoli pubblici di trasporto, ovvero questi sono i taxi o possono essere gli autobus, le metropolitane o quello che sia. Vale a dire, io sto uscendo dalla metropolitana, si chiude la porta, subisco un danno. Qualora emergesse che la colpa non è mia ma c'è stata un'anomalia tecnica che ha prodotto questo danno, ecco quando dicevamo deve essere provato, io potrò fare azione nei confronti di ATAC, ma fatti specie metro, per recuperare un ambito di retribuzione che andrò a erogare, fermo restando il resto della quota che procederà a INAIL. Se non procedesse a INAIL, riportiamo un po' la cosa che dicevamo prima, dovrà essere recuperata sulla compagnia assicuratrice di metro ATAC. E due anni per il risarcimento da circolazione e veicoli alle persone trasportate a titoli di cortesia amicizia articolo 2047. Cari colleghi che mi state ascoltando, in effetti ogni tanto avviene che, così a titolo di cortesia, diamo il cosiddetto passaggio ad amici, colleghi o quello che sia, che succede nel momento in cui però avviene un infortunio. Ecco, il dipendente, il collega che era tra virgolette il passeggero, che potrebbe essere sulla moto, sull'automobile o quello che sia, in effetti e la causa è dovuto al guidatore, che potrebbe essere paradossalmente anche un nostro dipendente stesso, nei confronti della compagnia assicuratrice viene attivata l'azione di recupero. Questo fatto però lo possiamo rendere operativo soltanto entro due anni. E noi dicevamo prima, però, io come faccio a sapere se davvero trattasi di un evento causato da terzi o no? Beh, l'attestazione medica, ad esempio, che io manderò, non sempre riesce a svolgere, diciamo così, questo dubbio. Perché responsabilità dell'evento viene raramente desumibile dalla certificazione medica. A volte, per esempio, nei referti di pronto soccorso viene specificato la gravità dell'evento, la particolarità della patologia medica che viene riscontrata, ma non spesso, ma assolutamente è infrequente che venga ad indicare che è stata causata da terzi. E quindi è chiaro che è necessario acquisire appunto la descrizione dell'evento e la documentazione di supporto, che sostanzialmente avviene sempre allorquando un dipendente si fa male e denuncia un infortunio. Ma la parolina che abbiamo bisogno in più è che specifichi eventualmente che sia causata da terzi. E quindi abbiamo detto che in questo obbligo del dipendente di comunicare al datore di lavoro, qualsivoglia infermità sofferta a causa di terzi, determina, abbiamo detto già prima, l'applicazione di sanzione disciplinare. Io questo lo ripeto perché in effetti poi la dimenticanza può non essere banale. Colgo l'occasione anche per dire che questo sarà comunque oggetto di una prossima circolare sugli infortuni diffusa a tutto il personale perché dovete sapere che dal giorno 23 dicembre 2015 espirato il termine di vigenza del registro unico degli infortuni sul lavoro. Cioè dal giorno 24, vigilia di Natale, in effetti ormai INAIL ha proceduto a mettere soltanto il percorso online. per cui con la denuncia infortunistica inviata online mediante un cruscotto specifico viene dato agli organi di vigilanza la possibilità di poter visualizzare il riepilogo di tutte le situazioni e dallo stesso potrà recuperarsi tutto quanto è da un punto di vista statistico. E questa descrizione dell'evento infortunistica a cura del dipendente ecco perché l'importanza da parte dei colleghi che viene a determinarsi. E quindi questa gestione del recupero risarcitorio che per ora sarà svolta dal servizio trattamento economico, così fa un po' di tutto servizio trattamento economico, front office in ogni senso, così è sempre colpa di Geneco. Ma questa è una punta che voglio così citare. E' importante quindi quando succede nei confronti di terzi ad esempio un incidente stradale tenere in considerazione i dati della compagnia assicuratrice. E quindi cari colleghi so benissimo che dopo anche a livello di risarcimento diretto procederete sicuramente con attenzione a recuperare i dati dell'altro conducendo mediante il CID o mediante qualsiasi altra indicazione. Ma questo è importante perché il DPR 254-2006, quindi parliamo un po' anche di diritto assicurativo, quindi la circolazione dei veicoli, quello che avviene ogni giorno, ci consente entro determinati limiti di poter avere il risarcimento del danno direttamente da chi? Dalla nostra compagnia. direttamente dalla nostra compagnia assicuratrice che chiaramente, attenzione non è che aumenta la classe di merito, ma semplicemente poi si rifà sulla compagnia che invece fa riferimento il soggetto che ha determinato il danno. E quindi noi sostanzialmente che cosa facciamo? Ecco quindi che la gestione viene esplicitata nella richiesta di rimporso della quota fissa e ricorrente retributiva, nonché degli oneri accessori, abbiamo detto non oneri accessori, oneri riflessi, è quello che è comunemente detto la contribuzione previdenziale. Più gli interessi, chiaramente, se è un periodo molto lungo in particolare. Quindi, verso chi? Noi dovremmo scrivere una letterina a tre persone, al terzo responsabile, alla compagnia di assicurazioni del terzo responsabile, se c'è chiaramente, alla compagnia di assicurazione del dipendente. Questo era il caso proprio dell'incidente stradale il più semplice. E quindi con questo, io ricordandovi che, e lo ripeto, che con la prossima circolare riprenderemo un po' questi temi per darne ulteriore diffusione al personale, colgo l'occasione per augurarvi a tutti voi un felice e proficuo 2016. Grazie.